Il tennis professionistico sbarca in Sicilia. A Solarino è partito il primo dei quattro tornei internazionali di tennis femminile. Sui camping carpet dello Zaiera Tennis ma in scena l'Archigen Cup, torneo con monte premi di 15.000 dollari che vede giocatrici provenienti da tutta Europa contendersi il prestigioso titolo. Testa di serie numero uno del tabellone, la toscana classe 99 Tatiana Pieri, grande favorita del torneo assieme alla cieca Carolina Berancova. Tra le giocatrici siciliane spicca il nome della ventenne palermitana Federica Bilardo. Numero 4 del Seedin è giunta sin qui ai quarti di finale grazie ai successi ottenuti su Anita Bertoloni al primo turno e Chiara Catina agli ottavi. Dopo questa prima manifestazione che si concluderà con la finale in programma domenica 10 novembre, l'Archigen Cup ripartirà la prossima settimana con il secondo torneo da 15.000 dollari. Il prize money salirà poi a 25.000 dollari in occasione degli ultimi due tornei ITF di Sollarino che si disputeranno dal 18 novembre al primo dicembre. Per gli appassionati di tennis sarà l'occasione giusta per vedere dal vivo giocatrici del calibro di Kirsten Filipkens, ex numero 13 del mondo e semifinalista dell'edizione 2013 del torneo di Wimbledon, Monica Niculescu con un passato da numero 28 da GTA e numero 11 in doppio e l'azzura numero 2 d'Italia, Jasmine Paolini. Grazie a tutti.